Il sistema Speedblock è un sistema innovativo per costruire le case, si parla di un blocco in legno truciolare coibentato con lana di roccia all'interno, questo garantisce massime prestazioni termiche e acustiche al cliente, inoltre garantisce anche una resistenza al fuoco molto elevata, la lana di roccia è una lana di roccia di importazione svizzera perciò di altissima qualità, è un sistema molto facile da costruire perché si parla di un blocco modulare con degli incastri su tutti i quattro i lati, molto veloce nella posa e riduce i tempi di costruzione notevolmente. Grazie 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 Grazie